Se non mi hai portato i roti della parmigiana, lindi e i pigni non ti faccio tra sé, tu ti puoi perdere, ma il roto no. Eccoli qua. Ah, meno male. Mammina. Ma come ti hai asciugata, sei asciugata, sei entrostata a 10 kg. Ma quando mai? Ma non cucina mai? Insomma, tutti i giorni. Ma cucina giorni alterni. E quelle creature che ci fanno mangiare solo l'indus. Non cucino con mamma, però. Ma quando mai, mamma? Tiè mamma, tiè? Voglio il tuo caffè. Grazie, mamma. Eh, va prego, figurati. Da me? È finito. Eh, che vuoi da me? Ti è piaciuta la lasagna, mamma? Mammina, come cucini tu non cucina nessuno. Grazie invece per la foglia di insalata che mi avete fatto trovare nel piatto. Vabbè, che vuoi trovare? Tu dici che stai addietro? Eh, che paura? E' solo da essere come a Belenio invece che... Ma mamma, mamma? Ma buona. Eh, ora sapete che ti fa? Ma che da fare? E' da fare il balletto come creatura? Ma qua palletti. Dovrà fare le ricette e condividerle con le amiche. Che? Che fa il balletto, mamma. E' un ragazzo, mamma. E' da fare il balletto, mamma. E' da fare il balletto. E' da fare il ma io ti faccio interrompere, ma che pensate che stiamo battendo qua? faccio cominciare qua, avanti, andatevi, via! mamma mia bella ah, ecco qua, io me lo carico e mi arrivano tutti i mic eh, mic buongiorno like mamma, like eh, come si dice, dice, ti non sai follower? eh, i gallinawer follower, mamma, follower ma boh, chi li mi seguono pure dalla Siberia, che hai capito tu? eh, chi li sei in Siberia? ma lascia stare, mamma, che per lei è una distrazione eh, grazie, mamma, solo tu mi capisci la vivera è invidiosa, anche se sti cosa ne sape fare eh, eh se cattate pure tre cosci tre piedi, mamma, eh, Carmela faccio a proposito, ma tu come fai a sapere tutte sti cosi like, i follower? Pasqua va a pomerare un po' con il cellulare mamma mia aspetta, ma c'è arrivato tic toc Pasqua 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 sei tu Nina Pasqua 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 Pasqua